è riuscito a far ballare addirittura l'orella per chi non lo conoscesse questo signore di cui non conosco il nome stavo dicendo ogni volta che accenno dei passi di danza lui ha sempre qualcosa da dire stasera terza puntata è venuto pure sul palco che di solito stava nel pubblico era bella la gara che stavo là seduto e tu ballavi sopra il palco allora io sono un ballerino comodo, mi piace sta comodo, non mi susuro, fa caldo e tutto tu vuoi essere la subletta più amata di tutti, vuoi essere la subletta più apprezzata in Italia mi piacerebbe c'hai un solo modo per diventarlo che devo fare con questi cucchiaini? tu come ti chiami? l'orella l'orella cucciarina, è più amata dagli italiani ma per favore è l'unica volta per favore allora, lei non capisce nulla di danza io non capisco lei mi è stato alla scala, per esempio no, scala, no, ti sono andata a scensore, tu come? no, nel senso, hai mai andato a vedere un balletto, vero? ma certo ieri sera ho assistito alla morte dei cigni eh, com'è stata? rapida che senso? è perché stava dietro di me i cigni, non l'ho visto, sono scivolata ah, mi ha fatto tutto l'hamburger vabbè, sicuramente, sicuramente lei mi vuole sfidare oggi giusto? io sono venuto apposta sul palco per sfidare a quello che vuoi tu io non ho paura di te no, dimmi, dimmi Michael Jackson ma va bene, su, ma iniziamo però mi fa male con Jackson, ci vorrebbe un guando, non capire una cosa c'è qualcuno che ci può adiuvare ah, ti sei preparato pure tutto l'avvegliamento? grazie ragazze, eh, molto gentili, ecco qua questo è il guando di sfida ma io, no, questa, questa veramente, questa è troppo ok, possiamo, chi inizia? su, ci siamo, vai carica piano, piano ok, vai iniziamo? chi parte? ma parti tu, io non posso, io seguirò i tuoi passi maestro aiutami, vai ah, è difficile, i boom walker insieme, vai oh, mamma mia cosa, cosa mi tocca fare a me l'insulto eh, pure al contrario ecco qua, allora che succede adesso? adesso, chi ha vinto di tutti e due la gara? ah, ok vediamo chi ha vinto se possiamo intrapituizzare qua lo so purtroppo venite, venite lo so che non siete abituati ah, ah, certo, sì ecco qua, grazie come dimenticare questo è per te va benissimo e questo è per me musica attenziva vediamo chi ha vinto certo eh, che pacienza eh, ecco qua su oh, che è successo? pareggio mannaggia allora sei fortunato sì sei fortunato eh, dimmi ti sfido la settimana prossima a cosa mi sfidi? facciamo merengue merengue vengo con i miei compagni no, non dire compagni di merengue perché c'è un po' di città stasera per favore andiamo su maiano piano piano grazie a tutti